daniele innanzitutto come stai bene bene grazie stiamo sto lavorando anche se non mi sono fermato perché comunque il ginocchio questo richiede sto bene sto bene lavori sulla sabbia mi fan bene soprattutto a me quindi credo che il ritiro ci sono al 100% voglio farlo al 100% per poi star bene ecco questa tua mentalità di voler essere al 100% psicologicamente ti porti qualche strascico l'hai già superato no no psicologicamente credo di no credo di averla affrontata ancora mai la prima volta anzi sicuramente a livello fisico poi sarà sarà il campo a dirmelo perché comunque poi quando alziamo i ritmi alziamo i carichi bisogna vedere anche come reagirà però a livello mentale credo proprio di essere a posto se qualche mese fa ti avessero detto arriva cassano al parma l'avresti pensato possibile sinceramente no sinceramente no perché comunque la filosofia del parma non è mai stata proprio questa qui però meglio meglio per noi meglio per noi non me l'aspetto anche perché io l'ho vissuto il primo anno di roma antonio quando lui io ero in primavera lui è arrivato dopo l'anno dello scudetto e adesso ritovarmi insieme a giocare comunque mi fa mi fa mi fa sorridere però mi da mi da forza perché porta con con sé entusiasmo sicuramente entusiasmo probabilmente anche il segnale che come hai detto tu la il parma ha cambiato forse la filosofia magari nell'anno del centenario forse stupire ancora di più di quello che ci ha abituato a fare sì sì credo che quell'anno del centenario ancora di più sicuramente ogni a ogni anno con le possibilità ovviamente del parma si è cercato di stupire ricordo che il direttore insieme al presidente hanno sempre cercato di mettere qualcosa che potesse dar peve sale un po di entusiasmo soprattutto qualità della squadra e antonio viene in un gruppo giusto in gruppo buono consolidato e può darci sicuramente molto di più poi ci sono anche tanti giovani non dimentichiamolo vediamo Iankovic è tornato Cipsa anche quello ancora compito vostro inserirli e responsabilizzare sì sì ma credo che non ci siano problemi sono comunque ragazzi per bene quando sei un ragazzo per bene in un gruppo come il nostro ti ambienti dopo due giorni poi soprattutto in una circostanza come questa di preritiro ci si mette veramente poco ad entrare in sintonia ci sono nuovi giocatori nuovi che sembra già che li conosciamo da tanto quindi questo è il gruppo del parma e qui credo che sia importante dopo un'esperienza come la tua dopo il duplice infortunio forse parlare di sogno europa per galloppa c'è forse un altro sogno che viene prima per te quello di star bene quello credo che sia il sogno di tutti che alla fine quando stai male quando ti infortuni stai sempre male star fuori allenarsi a parte è sempre dura sempre dura io sì voglio star bene poi quello che verrà ce lo prenderemo tutto di guadagnato ovviamente l'importante appunto è star bene sì sì ecco l'affetto dei tifosi quello lo senti sempre credo che anche questo ti possa sempre dare una mano in più sicuramente sicuramente io credo che l'affetto che mi è stato mostrato sto più ovviamente al punto di vista umano è quello che mi fa più piacere poi le qualità uno le può discutere o meno però credo comunque di essere ragazzo per bene sono quattro anni che sono qui la gente se ne accorta e mi ha dimostrato tanto tanto affetto soprattutto dopo il secondo infortunio quindi le ringrazio